Un megablitz con ispezioni dall'alto e verifiche capillari tra Napoli e Caserta nella terra dei fuochi. Sono 83 le persone denunciate, una arrestata con sigilli e sospensioni per 35 aziende. E questo è il bilancio dell'operazione portata a termine dai carabinieri. È stato utilizzato anche un elicottero per accertare che fosse rispettato il divieto di coltivazione sui terreni tra Caivano ed Acerra, classificati dall'ARPAC, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, come rientranti tra il quarto e quinto livello di inquinamento. Insomma, terreni nella zona rossa, quella a rischio della cosiddetta terra dei fuochi. I controlli hanno interessato fabbriche, attività tessili, aziende di abbigliamento, autolavaggi, carrozzerie e depositi di carburante. La persona denunciata è finita nei guai per combustione illecita dei rifiuti. I riati contestati vanno dallo smaltimento non autorizzato dei rifiuti all'emissione illecita di fumi in atmosfera, dallo sfruttamento del lavoro nero e clandestino, alla violazione della normativa in materia igiene sui luoghi di lavoro, dall'abusivismo edilizio fino alla mancanza di sicurezza per i lavoratori. Nello specifico a Giuliano, in un'azienda zootecnica estesa su 56.000 metri quadri con 400 capi di bestiame, non esistevano i registri di carico e scarico dei medicinali per gli animali e dell'etame. Il titolare aveva inoltre dimenticato di far rimuovere quattro tettoie di aimanto dalle stalle, il tutto per un totale di 400 metri quadri di coperture. A Qualiano, un coltivatore, irrigava i terreni prendendo acqua da un pozzo al ridosso di un'area sequestrata per presenza di rifiuti, con il pericolo di inquinamento delle falde acquifere. A Cicciano, un 72enne, è stato sorpreso mentre incendiava rifiuti vegetali e di plastica su un fondo agricolo.